Buongiorno, siamo con Pierpaolo Soldaini, xtradernet.blogspot.it. Pierpaolo sarà uno dei protagonisti in sala trading durante il prossimo investi in Napoli del 23 marzo. Pierpaolo, spiegaci un po' cosa succede durante il live trading. Interveremo in diversi trader professionisti per mostrare al pubblico in tempo reale le operazioni che solitamente facciamo in una sessione di trading giornaliera. Gli strumenti che tratteremo saranno diversi. Io personalmente tratterò le azioni a più larga capitalizzazione del Fuzzi Mib, quindi le azioni più conosciute dal vasto pubblico, NLN, etc., e più le opzioni sia sull'indice Fuzzi Mib sia sui singoli titoli, così teiso alfa. Quindi sarà una sessione parecchio interessante, soprattutto se troveremo una seduta, cioè se ci aiuterà la volatilità di mercato, perché è chiaro che nelle sessioni più volatili si presentano molte più opportunità, soprattutto sulle opzioni. Quindi ti aspettiamo con ansia il prossimo 23 marzo a Napoli, investi in Napoli. Grazie mille, alla prossima. Grazie a voi e arrivederci a Napoli.